Ciao, sono le due e mezza e siamo arrivati all'appretto, la quarta fase del processo per la pizza in taglia romana. Faccio giusto un riassunto delle puntate precedenti. Ho impastato ieri alle due di pomeriggio, ho lasciato l'impasto a temperatura ambiente per un'ora in modo da permettere alla lievitazione di partire. Ho messo tutto in puntata in frigorifero per 23 ore, dove l'impasto è maturato e lievitato e si è formato una solida struttura. Ho appena finito la fase di staglio, dove ho ridato forma e forza alla massa con delle pieghe leggere. Ed eccoci arrivati all'appretto, dove l'impasto prosegue la lievitazione e maturazione, si riempirà di bolle di anidride carbonica e raggiungerà l'estensibilità necessaria alla stesura. Per quanto tempo? È bella domanda, dipende da quanto è stretto il panetto e dalla temperatura ambiente. Io faccio sempre uno staglio delicato, non lo stringo mai tanto. Nei mesi freddi con in casa dai 19 ai 22 gradi lo lascio 5, massimo 6 ore. Invece nei mesi più caldi scendo un po' con il tempo, ma difficilmente vado sotto le 4 ore. Ora lo sposto in un angolino riparato, ci mettiamo alla sveglia e via col timelapse. Ok, direi che ha reso l'idea. Lascerò a temperatura ambiente ancora una mezz'ora e poi la stendo. Alla prossima per il video della stesura. Alla prossima per il video della stessa.